Ciao a tutti, amici, questa è la mia quinta episodio sui demoni, su come ragionano i demoni, sulla fede dei demoni. Allora, premetto che se qualcuno verrà a bussarmi alla porta e a bruciarmi dopo questo episodio, io vi ho voluto bene. Sicuramente perderò dei follower, qua ne sono certissima, è difficilissimo che ne guadagni. Allora, uno degli episodi nella storia effettivamente delle scritture sacre, dove il demon, il demone, il male, ha un rapporto più diretto invece con il divino, è sicuramente quello delle tentazioni di Cristo che è riportato nel Vangelo di Matteo e di cui più o meno abbiamo sentito parlare più o meno tutti, quantomeno per pallide rimembranze della catechesi da ragazzi. Comunque fatto sta che l'episodio narra di Cristo che viene portato nel deserto dallo spirito e qui ha tre tipi di tentazioni. Satana gli dice di trasformare sostanzialmente le pietre, siccome era 40 giorni che non mangiava, in pane. Poi, vedendo il rifiuto di Cristo, lo porta su un pinnacono e gli dice Vabbè, adesso buttati che sono sicura che Dio ti salva, mandando i suoi angeli ad aiutarti. E infine, scornificato per la terza volta, vi faccio un riassunto brevissimo, comunque andate a leggere se no, è brevissimo. Gli dice, guarda, ok, adesso ti porto su un monte e se tu mi adori, qui la questione è che è tutto tuo. Bello, no? Bellissimo. E anche qui scornificato per la terza volta. Ma se uno legge attentamente e in maniera intelligente questo episodio evangelico, capisce che, ma allora, questo male, che è, ricordiamoci, come vi ho spiegato l'altra volta, puro spirito, eh? Cioè, in Satana non c'è assolutamente un once di materia. Si potrebbe dire che i demoni, da un punto di vista spirituale, sono un peccato dello spirito contro lo spirito. Cioè, non hanno nessun rapporto con la materia, eh? Come enti, come entità. Tanto è vero che anche i Vangeli di Cristo, sostanzialmente, spesso mette in guardia i suoi apostoli dicendogli, non abbiate timore di chi vuole farvi fuori nel corpo, ma di chi vuole farvi fuori nel corpo e nell'anima. Non dice mai solo nell'anima, eh? Dice nel corpo e nell'anima. Cioè, ritenendo la materia indissolubilmente legata allo spirito. La fisicità umana, il corpo umano, indissolubilmente legato. Cioè, uno senza l'altro non esistono. Cioè, sostanzialmente, no? È interessante questa cosa qua, perché a me ha stupito. Fatto sta che da questo piccolo episodio viene fuori, insomma, un Satana che io sinceramente non mi aspettavo. Cioè, questo daimon io sinceramente così non me l'aspettavo. Allora, per prima cosa, lui è un esperto pazzesco di Sacre Scritture, no? Alla risposta, la prima risposta di Gesù, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, fa capire che qui si sta giocando allo stesso livello. Tant'è vero che cita il Salmo 91, i suoi angeli verranno a prenderti, eccetera, eccetera, sono parole di un Salmo biblico. Quindi io dice, uè ragazzo, guarda che qui la sappiamo uguale, no? Ed è un esperto pazzesco di Sacra Scrittura, no? Chiaramente la usa a suo modo, cioè, sai, poteva dire, sta scritto, ama il prossimo tuo come te stesso, per cui, sai, la pedofilia effettivamente è qualcosa da discutere psicologicamente, cioè, oppure sta scritto, combattete coloro che non credono in Allah, per cui la jihad, cioè, bisogna fare, voglio dire, mi sembra assolutamente una cosa desiderata da Dio, cioè, poteva dire qualunque cosa, no? Lo usa così. No, lui è veramente un esperto, cioè, la spiritualità è il suo campo veramente di azione reale, no? E qui viene scornato, perché comunque Gesù gli risponde così, allora lui dice, ok, siamo allo stesso livello, vediamo un attimino come te la giochi, anch'io la conosco questa questione, ed effettivamente la prima tentazione di Satana è una tentazione molto intelligente, cioè Satana è estremamente solidale, si preoccupa per Gesù, capisci? Questo non l'ha mangiato per 40 giorni, per cui cosa gli dice? La prima cosa che gli dice, senti, fai in modo che le pietre diventino pane, no? Cioè, come fai a venire qua tra gli uomini con le pretese di un discernimento solo della libertà, del bene e del male? Devi portare delle cose positive, cioè, devi occuparti dei poveri, devi occuparti delle persone che soffrono di più, no? Cioè, effettivamente il tuo compito fondamentale dovrebbe essere questo, cioè, fare in modo che le persone stiano bene, che tutti abbiano del cibo, che il pane sia diffuso. E Gesù gli dice, senti, cioè, no, no, capito? Cioè, cazzo i migranti, non so, capito? Cioè, è il fondamento, è fondamentale, cioè, se no, come puoi pretendere che ti vengano dietro se tu non risolvi i problemi pratici? Cioè, è la cosa fondamentale che devi fare, no? E questo gli dice, no, cioè, stai scherzando, no, no. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gli risponde così, cioè, lo sega subito. Questo dice, vabbè, allora, con questa questione qui non è andata bene, vediamo se va bene con i miracoli. Cioè, la seconda cosa che mi è saltata all'occhio è che Satana adora i miracoli. Li ama. Dostoevsky, che è tanto abistrattato in questo momento, poverino, perché forse è uno dei più grandi cibi della storia umanità, mentre i nostri professori universitari non ci arrivano proprio neanche a pulire i piedi. Visto, no, veramente, no, non facciamo queste polemiche, dai, perché non mi piace. Però, sostanzialmente, onestamente, diceva nel Grande Inquisitore, dove lui parla proprio di questo episodio qui, che è un bellissimo capitolo dei fratelli Caramazzo, che è un romanzo bellissimo, pesantissimo, cioè, io l'ho letto veramente, molto lentamente, Dostoevsky è pesante, è geniale, ma è pesante, è inutile che ce la meniamo, assolutamente geniale, ma pesante. Scrive che l'uomo non cerca Dio quanto i miracoli. È dal momento che l'uomo non è in grado di rimanere privo di miracoli, egli si sarebbe creato dei miracoli da sé nuovi. Cioè, praticamente, Satana prima ha fallito nel far diventare Cristo un personaggio, un esponente importante e co-solidale. ha fallito. Ora ci prova nel farlo diventare un guru spirituale, cioè, se ti butti giù, guarda, i miracoli sono, gli uomini rimarranno stupiti, cioè, tu volerai coi tuoi angeli e sarà tutto veramente, estremamente spirituale, no? Cioè, aleggia per favore, allora, se con la materia c'è questi problemi, cioè, aleggia per favore nel mondo esclusivo dello spirito, si è un faro soprannaturale, luminoso, esperto nella meditazione, circondato da angeliche creature, sei un testimone perfetto del tuo potere sovrannaturale, no? Beh, del resto, cioè, Satana, parliamoci chiaro, la conoscenza del soprannaturale da parte del Daimon è infallibile, cioè, il suo, il suo, gioca in casa. fallendo anche lì tenta un'ultima volta e a me questa tentazione qui mi è sempre stata un po' antipatica perché l'hanno sempre ridotta alle solite menate psicologiche, pseudo-religiose del il potere, il potere male, ma in realtà, secondo me, lui non stava tentando Cristo con il potere tipo banalotto, no? E cioè, grazie a Dio è molto più intelligente di così, anche molto più simpatico, cioè, devo dire, anche più brillante, meno noioso. Lui, quando gli dice, guarda, tutti i regni della Terra, intende proprio tutti, cioè, lui vuole farlo diventare famoso, parliamoci chiaro, cioè, quello che propone a Cristo è diventare di moda, gli dice sostanzialmente, guarda Gesù, tu avrai l'account Instagram più seguito di sempre, la Merlino, non ci sarà una trasmissione TV in cui non parlerà effettivamente di te per tutti i secoli dei secoli, sarai il primo risultato della ricerca su Google e sarai amato da tutti sopra ogni limite, adorato più di un birologo in pandemia, cioè, proprio, cioè, sarai veramente il top dei top, ma tutti regni a qualunque livello, no? non puoi puntare sulla libertà, ci pensiamo noi al marketing, praticamente gli dice questo, Cioè, sarai un meraviglioso capo di stato universale, universale, che darà gioia e bontà e benessere a tutti gli uomini, a tutti i suoi sudditi. Cioè, queste sono le quattro caratteristiche che io ho trovato in questo, poi adesso mi bruceranno, qualcuno si incazzerà sicuramente su questa cosa qua, però, diciamo che è così, il Dostoevsky, lo leggo, ogni tanto lo guardo perché lo leggo, scriveva commentando, lui era un orpodosso, per cui quei cattolici a volte era abbastanza insomma, critico, diceva che scrive che le tre tentazioni del deserto di Cristo riguardano il miracolo, il mistero, appunto, questi angeli e l'autorità, no? E io invece aggiungo che secondo me riguardano la libertà perché sembra veramente che da questo episodio a Satana importi solo quello, cioè importi solo che gli uomini non possano scegliere, no? Questo gli importa, non possono distinguere del bene dal male, non possono scegliere, cioè o solo materia o solo spirito o la fama la gloria cioè non possono scegliere come uomini dotati di spirito e materia indissolibilmente legati cioè è questo che veramente gli sta sulle palle per cui il tipo di fede che ha Satana è questo secondo me poi vabbè niente se non mi trovate più pazienza perché qui mi bruciano ciao ciao